...dare questo vuoto perché colmandolo entra nell'era di un paese ancora più civile e giusto e sono convinto che quindi bisogna andare avanti, ce l'ha detta anche la Corte Costituzionale, ce lo dirigono tante famiglie che soffrono, io credo che l'Italia sia d'accordissima a questo provvedimento quindi il Parlamento deve andare avanti perché deve colmare un vuoto e spero che lo farà presto. Grazie